problemi di inquinamento, i problemi delle polveri sottili, ma soprattutto non volete affrontare il problema delle 84.000 morti. 84.000 morti. E ce le dobbiamo far dire dall'estero perché in Italia queste cose dobbiamo nasconderle. E allora mi chiedo veramente, questo decreto giubileo io a questo punto lo dedicherei semplicemente a una categoria, cioè ai poveri cittadini italiani. Dedichiamo il giubileo ai cittadini italiani che purtroppo con questo Governo, con questi atti, con queste proposte non ha la possibilità di vivere in un Paese degno di essere vissuto, con una qualità di vita decente e soprattutto lo dedichiamo agli 84.000 morti per smog e ai morti in campagna per le mancate bonifiche e il mancato trattamento dei rifiuti. Grazie. Ringrazio. Non vi sono altri iscritti e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Avrebbe facoltà di replicare il relatore Gian Piero Giulietti, ma immagino e spero peraltro che si riservi di non farlo. Ha facoltà di replicare il Governo che mi pare della stessa opinione e questo è gradito vista l'ora, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Adesso passiamo a un po' di comunicazioni. A seguito dell'odierna riunione della conferenza dei Presidenti di gruppo è stato predisposto il seguente calendario dei lavori per il restante periodo del mese di gennaio 2016, lunedì 18 gennaio, ore 15, discussione generale, mozione capo ed altri, numero 1, 1055, sulle infezioni non soccomiali. Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21, antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna nella giornata di venerdì 22 gennaio, con votazioni. seguito dell'esame, decreto legge e interventi sul territorio, PDL protezione degli autori di segnalazioni di reati, mozione capo ed altri, sulle infezioni non soccomiali. Martedì 19 gennaio PM, al termine delle votazioni, avrà luogo la discussione generale della PDL recante l'introduzione del reato di omicidio stradale. Attocamera 3169b, il cui seguito dell'esame si svolgerà nella giornata successiva, dopo gli argomenti già previsti. Giovedì 21 gennaio, ore 14, avranno luogo le comunicazioni del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia. Lue di 25 gennaio, antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna, discussione generale, decreto legge, recante e proroga termini, proposte di legge responsabilità professionale e personale sanitario, mozione Baldelli ed altri, numero 1.085, su corretta destinazione da parte dei comuni, le proventi e le sanzioni derivanti da dispositivi di rievazione automatica della velocità, mozione Fassina ed altri, 1.090, concernente i giochi olimpici di Roma Capitale, disegno di legge ratifica norme per il contrasto al terrorismo. martedì 26 gennaio, ore 11, discussione generale della mozione Dorina Bianchi ed altri, numero 1.976, concernente iniziative per il rilancio del mezzogiorno, martedì 26, ore 15, con eventuale prosecuzione notturna, mercoledì 27 e giovedì 28, antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna, nella giornata di venerdì 29 gennaio. Con votazioni, seguito dell'esame, mozione Dorina Bianchi ed altri, 1.976, concernente il rilancio economico ed occupazionale del Sud, decreto legge recante proroga, termini da inviare al Senato scadenza 28 febbraio 2016, argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi, PDL, responsabilità professionale del personale sanitario, mozione Baldelli ed altri, 1.1085, sulla corretta destinazione da parte dei comuni, riproventi delle sanzioni derivanti da dispositivi di relazione automatica della velocità, mozione, fassine ed altri, 1.090, concernente giochi olimpici di Roma Capitale, disegno di legge e ratifica norme per il contrasto al terrorismo. Mercoledì 27 gennaio PM, pomeridiana, al termine delle votazioni, avrà luogo la discussione generale della proposta di legge costituzionale recante modifica lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia-Giulia, approvata dal Senato, in cui seguito dell'esame si svolgerà una giornata successiva dopo gli altri argomenti già previsti. Lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata a question time avrà luogo il mercoledì dalle ore 15, lo svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo di norme il venerdì dalle ore 9.30, il martedì di norma dalle 9 alle 11 avrà luogo lo svolgimento di interpellanze e interrogazione, il Presidente si riserva di inserire nel calendario un esame di ulteriori progetti di legge e ratifica licenziata dalla Commissione di documenti licenziati dall'aggiunta per le autorizzazioni. L'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario sarà pubblicata in calcio al resoconto stenografico e la seduta odierna per quanto riguarda la discussione dei proposti di legge numero 3169B, numero 25913241769 e abbinate, 3224 e abbinate, dell'organizzazione dei tempi sarà definita al termine dei lavori delle competenti commissioni di merito comunico che è stato altresì predisposto al programma degli lavori per il mese di febbraio e di marzo 2016. Febbraio, proposte di legge assistenza delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, atto camera 698 abbinate, proposte di legge in materia di conflitti di interesse, atto camera 275AR abbinate, PDL sull'acquisto e la dismissione dell'autovettore di servizio di rappresentanza, atto camera 3220 mozzone, Nicoletti ed altri.